ci colleghiamo nuovamente in diretta con voi il collegamento che abbiamo avviato prima è saltato penso per problemi di connessione in realtà non abbiamo capito bene quasi certamente problemi di connessione dicono i tecnici secondo me c'è anche qualche altro motivo tecnico io già so qualcuno che ha buttato qualche qualche negatività però abbiamo siamo attrezzati e mi sono portato quello che serve per così per la diretta in tranquillità così sono sicuro che non si ripetano episodi di questo tipo quindi questo lo teniamo vicino modo tale da scongiurare diciamo altre situazioni negative però vabbè sono cose che capitano ho cercato di darvi notizie sulla sulla questione dell'ospedale perché penso sia una questione importante rilevanti cui discutere e all'ordine del giorno ha in sé insomma molte molta attenzione e quindi credo sia giusto in qualche modo per le aggiornate ripeto poi come ho detto prima lo ripeto noi cercheremo di avere quanto più possibile un contatto con voi tramite queste dirette facebook che comunque hanno un effetto positivo cercheremo di dare anche degli appuntamenti fissi se riusciamo in modo tale che ci possiamo dare un appuntamento e se avete dubbi richieste perplessità domande di qualunque tipo sapete che io non sono il tipo che si preoccupa diciamo di di affrontare il problema nella sua complessità quindi mi fa piacere anche affrontare di problematiche difficile perché io penso che dal compronto vengono fuori comunque le cose positive ho già detto prima non so chi mi ha seguito forse sarò ripetitivo ma è giusto ripetere quello che abbiamo detto per lasciarlo sia poi sulla pagina facebook e per aggiornare invece chi ci sta seguendo per la prima volta ora che la diretta di prima si è interrotta per motivi tecnici e quindi andiamo ripetere abbiamo discusso prima innanzitutto la questione vaccinazioni che è una cosa all'ordine del giorno molto importante ad agropoli avevamo convincato un po in ritardo rispetto ad altre location però mi hanno promesso sia lato ospedaliero che lato distretto che il tempo perduto verrà prontamente recuperato la questione dei vaccini per gli ultimi ultra 80 anni prima in questo momento siamo al ritmo di circa 100 vaccini al giorno per gli oltre 80 anni abbiamo superato i 650 700 vaccini già fatti e sapete che questa vaccinazione la stasera direttamente il personale ospedaliero con il dottore pizza che stava collaborando anche con la nostra protezione civile che se l'anziano a difficoltà è a disposizione eventualmente per il trasporto in più vogliamo darvi una disponibilità di supporto ulteriore abbiamo numero di telefono che ora vi do a cui è possibile accedere il 389 63 67 472 operativo dalle 9 alle 13 che è a disposizione delle persone anziane se hanno problemi a essere per essere guidate nella percorso della registrazione sulla piattaforma sinfonia per poi chiedere a essere a loro volta convocate per il vaccino quindi è possibile chiamare a questo numero possibile prendere un appuntamento eventualmente per venire in comune e se necessario organizzare un caricamento dei dati in loco proprio facciamo direttamente noi questo problema o se avete necessità di segnalarci interventi con la protezione civile per il trasporto anche potete utilizzare questo numero che abbiamo messo a vostra disposizione quindi per tutte le problematiche riguardano i vaccini degli ultri 80 anni ci mettiamo a disposizione quel che possiamo per venirvi incontro questa è una cosa importante che volevo dirvi il vaccino viaggia però come avete visto abbiamo superato quasi 700 vaccinali quindi viaggia abbastanza bene poi naturalmente il vaccino degli 80 anni sapete il vaccino pfizer che ha come sapete due iniezioni e quindi stiamo andando bene poi invece c'è l'altro vaccino la strazenica che verrà utilizzato la regione campagna lo ha disposto per tutto il personale scolastico questo comincerà domani alle ore del pomeriggio dalle ore 14 di giovedì si prevede almeno inizialmente di fare almeno 50 casi 50 vaccini per arrivare a un numero massimo 70 80 anche fino a 100 se si riesce nella giornata e verrà fatto tutti i pomeriggi durante la settimana e poi sabato domenica invece di mattina quindi sette giorni su sette si proseguirà per senza sosta per le vaccinazioni del personale scolastico questo servizio coordinato dal dottore maiese invece è gestito e organizzato dal distretto sanitario sono anche qui si ricarica la richiesta sulla piattaforma sinfonia credo che nei giorni scorsi erano arrivati a circa 200 se non sbaglio prenotazioni quindi ci aspettiamo insomma domani queste crescono per cercare di coprire tutto il personale scolastico della nostra città e tutti e due i vaccini si faranno presso l'ospedale civile per da vedere le notizie dall'ingresso principale si entra le persone anziane subito a sinistra dove dove per inderci dove stanno i luoghi dove si vanno a fare generalmente le visite quindi gli ambulatori mentre per il personale scolastico subito a destra all'ingresso dove è stato organizzato proprio l'assistenza per il personale scolastico quindi poi vedete in ospedale tutte le indicazioni del caso poi abbiamo detto prima di passare alle vostre domande che credo saranno numerose volevo darvi degli aggiornamenti proprio sulla questione ospedale civile di agropoli e volevo farvi una segnalazione rispetto ai numeri all'inizio appena aperto l'ospedale covid aveva 20 posti nel reparto di malattia infettiva sostanzialmente dove si accolgono i malati di covid non gravi e 10 posti invece nella terapia intensiva subintensiva dove si accolgono purtroppo i malati gravi dove raccogono diversi malati gravi e dove ci sta la terapia intensiva il primo reparto affidato al dottore Yelmire il secondo reparto affidato alla dottoressa Lampasona qui si è stato incremento dei vostri letto e i posti sono passati da quelli della malattia infettiva da 20 a 32 passeranno in questi giorni sono dei lavori che stanno ultimando mentre quello del più della denimazione passano da 10 a 16 quindi altri 6 posti per un totale di 48 posti voglio farvi riflettere su questo numero 48 non è un numero diciamo da non considerare perché pensate che quando l'ospedale civile di agropoli ha chiuso i battendi questo più meno il numero dei posti letto che era operativo allora per dirvi che sostanzialmente siamo tornati a quel numero è chiaro che questo momento questo numero utilizzato per il covid e c'è una politica concentrata sul covid ma è pur vero che comunque siamo arrivati di fatto più o meno allo stesso numero che avevamo precedentemente quindi l'ospedale civile ha personale medici e un'organizzazione tale da ospitare oggi 50 persone come si ospitavano allora ecco che quindi ci auguriamo presto perché ci auguriamo che presto termini la pandemia ma quando si andrà a ridiscutere dell'ospedale di agropoli di reinserimento dell'ospedale di agropoli nel sistema sanitario della nostra provincia sarà un ospedale che avrà i medici avrà la disponibilità operativa avrà i mezzi e quindi sarà certamente più facile reimmaginare un reingresso dalla porta principale questo è un aspetto che voglio farvi notare per darvi anche un segno di positività forse potremmo dire in città tra tutte le cose negative che il covid ci ha portato probabilmente ci potrà lasciare ci lascerà io credo in eredità un ospedale nuovo momento operativo ma di questo è chiaro che ne riparleremo staremo attentissimi a tutti gli sviluppi che seguirà questa vicenda però con un'aspettativa positiva voglio aggiungere una notizia che diciamo ancora non è completamente ufficiale ma i miei rapporti continui insomma con le autorità sanitarie ci portano a pensare che si avvicina anche la programmazione della camera iperbarica all'ospedale di Agropoli questa è una cosa in più che vi voglio dare proprio per lanciarvi dei passaggi positivi cose buone che stanno avvenendo nell'ospedale nuove attrezzature che arrivano al nostro ospedale quindi insieme alle sale operatorie che ormai sono pronte attrezzare la camera iperbarica significa aggiungere molto altro al nostro ospedale soprattutto significa programmare un futuro certo nel nostro ospedale e questo mi fa piacere veramente di dirlo in un momento comunque difficile per la nostra città detto questo passiamo quindi alle domande in particolare la prima cosa che volevo chiarire era questo questo che è capitato qualche giorno fa abbiamo letto lo sfogo sulla pagina facebook una pagina facebook di una utente dell'ospedale che si è trovata a con un fortissimo mal di stomaco a ricarsi presso il nostro pronto soccorso ad Agropoli e lì dopo aver dopo lei racconta che dopo che è stata misurata la temperatura dato che la temperatura era alta è stata respinta non è stata accolta nel nostro presidio ospedaliero in particolare al pronto soccorso una vicenda non bella che però io voglio chiarire perché io quando ho letto quel messaggio mi sono subito recato verso il pronto soccorso a parlare con i medici come ed è il dottore volzone responsabile per capire quello che era accaduto in realtà il tutto veramente si 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 è ridotto a una incomprensione temporanea che è durata molto poco e vi spiego anche il motivo voglio spiegarvi il motivo per farvi capire che non è una cosa è una cosa che è capitato un miso del standing di comunicazione tra la struttura centrale di valle quella di Agropoli perché in realtà cosa succede il protocollo prevedeva che la persona che arriva al pronto soccorso e ha la temperatura alta è chiaro che la temperatura alta può essere motivata dal covid evidentemente ma può avere tanti altri motivi un'infezione in corso tante altre cose e voi chi conosce il pronto soccorso di Agropoli sa che nell'ingresso del pronto soccorso ci sono due stanze proprio andando sulla destra e quelle due stanze sono state destinate all'accoglienza delle persone con la febbre e da verifiche poi successive che si svolgevano in quel luogo dedicato e isolato dal resto del contesto quindi all'esterno del pronto soccorso una volta valutata la situazione del paziente se si rendeva conto che il problema della febbre non era relativo al covid la persona cede al pronto soccorso altrimenti è già lì in sicurezza e si può ragionare diversamente atteso che non è entrata nel pronto soccorso quindi non ha creato problemi al funzionamento normale dell'attività quelle due stanze per qualche giorno pochissimi giorni sono state utilizzate per la questione vaccinazione che doveva cominciare quindi non era ben organizzata la location e quindi sono state soltanto al pronto soccorso per qualche giorno in quei giorni c'è stato questo caso che ripeto ora che le state sono nuovamente a disposizione perché abbiamo lavorato insieme all'AS per renderle subito disponibile ora che sono nuovamente a disposizione non si ripeterà più un caso di questo tipo mi auguro veramente che non se ne debba più parlare anzi che si debba parlare del nostro ospedale per cose buone come vi ho detto oggi e non per cose cattive per cose negative veniamo alle domande diciamo che sono arrivate le prime due le prendo dalla stavo per rispondere prima quindi da intelligenti pauca chiede quando si prevede il vaccino per chi lavora a stretto contatto con il pubblico sapete il piano vaccinazioni ha avuto insomma degli stop per motivi organizzativi sapete che a livello nazionale c'è stato un problema nel reperire il vaccino stesso e quindi la programmazione della vaccinazione è stata un attimino diciamo fermata fermata rallentata sappiamo dagli organi di comunicazione nazionale che c'è stata da parte del presidente draghi una attenzione fortissima rispetto a un reperimento della materia prima che oltre a pfizer a moderna e astrazeneca che sono già vaccini che stanno arrivando in italia arriverà anche johnson johnson altre vaccini oggi si parlava addirittura di sputnik quindi il vaccino russo quindi stiamo reperendo il governo nazionale sta reperendo in grande quantità i vaccini per cercare di arrivare nel più breve tempo possibile a una vaccinazione di massa quindi arrivare a tutti oggi non sono in grado di dirvi bene perché il problema non lo sa nessuno anche perché poi questo meccanismo viene anche organizzato per regioni non lo sappiamo ancora però sappiamo dicendo che c'è stata una forte spin una forte accelerazione ci va ben sperare ma la clinica mediterranea che fu che funziona di ricevi i casi covi assolutamente no è chiaro che la clinica non è un ospedale dedicato al covi quindi non può ricevere questa tipologia di casi continua l'attività normale che non va tenuta in in bassa considerazione cioè noi dobbiamo certamente cogentarci sul covi ma sappiamo che sono anche le altre patologie da tenere in considerazione per questo motivo credo che deve continuare a lavorare come sta facendo i casi covi sono trattati nell'ospedale di agro per esempio e nell'ospedale di mitrofi così come è organizzato il protocollo da parte della asl nostra di competenza e la clinica è esclusa da questi per i vaccini a domicilio per gli anziani non deambulanti che tempi ci sono questa domanda va rivolta naturalmente all'asl ma potrete tranquillamente farla perché la gireremo alle autorità competenti al nostro numero verde che vi ho dato precedentemente il numero che vi ridò che il 389 63 67 472 che vi riterrà anche aggiornato sulle novità per chi vorrà sapere notizie e in quel caso cara giovanna chiapperini che mi pone questa domanda questo ripeto strettamente legato all'organizzazione dell'asse che saprai domani se chiamerai tranquillamente e voglio aggiornarti però che per quel che riguarda lo spostamento in ogni caso e se è un problema di odio di ambulazione semplice la nostra protezione civile è a vostra disposizione per venire a prendere la persona anziana a casa portare in ospedale e riportarla a casa quindi se è un problema di semplice di ambulazione è chiaro che interveniamo a noi se è più complessa la vicenda perché ci sono magari in mezzo macchine elettromedicali o quant'altro è chiaro che dovrà venire l'asse direttamente a casa ma vi comunicheremo tramite il nostro numero a disposizione vostra e vi aggiorneremo sui dettagli o quindi normalmente vi ricordo che il numero è attivo dalle 9 alle 13 un'altra domanda da giovanna abruzzese in base a cosa vengono chiamati gli anziani mia socia residente ad ogni astro cilento è stata prenotata sulla piattaforma il 2 febbraio e da oggi non è stata chiamata io diciamo questa notizia non posso dare ripeto notizia veramente strettamente legata all'organizzazione della dell'asola potrebbe essere potrei immaginare che il problema organizzativo di agropoli che è partito leggermente in ritardo forse ha creato una colo di bottiglia all'inizio del processo e quindi si è perso un po di tempo forse all'inizio dove per cui ricorda la vaccinazione degli ultrottandenni vallo della lucania come sperare è partito prima e agropoli perché un buon ritardo forse questo questo ritardo ha accumulato ha fatto accumulare un po di ritardo a cascata sui diversi casi quindi per questo motivo credo che se il 2 febbraio è stata è stata fatta la richiesta verrà presto messa a posto ma se vorrà privatamente mi invia i dati insomma della persona con un regalo telefonico e ci preoccuperemo direttamente di chiedere la all'asola il caso particolare per diciamo accelerare se c'è stato un problema interno all'organizzazione dell'as di provvedere a rispondere facendoci noi parte dirigente e cercare di recuperare il terreno perduto rinaldo crea dice quando si devono vaccinare disabili questa domanda in realtà noi l'abbiamo posta è stata una delle prime preoccupazioni che naturalmente siamo posti che chiaro che aspettando noi stessi il nostro turno quando verrà saremo immagino tra gli ultimi per la nostra condizione di salute è chiaro che abbiamo visto subito per i disabili e anche lì ci sta un ragionamento sulla diversità naturalmente della gravità del disabile ma sono notizie che non abbiamo ancora risposte certe ma che a cui darò risposta nel più breve tempo possibile perché realmente anche noi non sappiamo bene come si è organizzata la cosa è chiaro che questi giorni avendo domani avviandosi a piano regime anche la vaccinazione del personale scolastico questa doppio canale quindi ospedale che cura gli utortandenni e personale scolastico che viene vaccinato dalla dall'altra parte dell'asta dal distretto sanitario è chiaro che avviato questo ragionamento mano mano sbattendo i vaccini accumulati si potrà programmare anche il resto ma noi vi renderemo aggiornati naturalmente su tutte le notizie che lo faremo lo farò sia con eventualmente altre dirette e sia dal nostro voi sapete non abbiamo un appuntamento quasi serale guidiamo le notizie che riguardano i vaccini il covid cominceremo a mettere oltre alla tabella norma del covid anche le notizie che riguardano le vaccinazioni e quindi daremo diciamo appena avremo notizie di situazioni che si arrivano a evolvere nella nostra diciamo pagina facebook che vi aggiorniamo volta per volta dell'andamento della della pandemia nella nostra città vedremo anche notizie legate ai vaccini in modo tale che vi teniamo aggiornato praticamente quasi giorno per giorno ancora un'altra notizia un'altra domanda come funziona per i vaccini del personale scolastico di docenti fuori sede ma le sindaco li faranno ad agropoli anche questi qua quindi rosaria figliole che mi chiede prenotati sulla piattaforma e li verranno fatti in città anche questi ripeto si comincia giovedì pomeriggio verrà fatta sette giorni su sette cercheranno di raggiungere fino a 80 tamponi giornalieri in modo che potremmo raggiungi superare i 500 tamponi settimanali e credo che sia un risultato positivo perché in un paio di settimane due tre settimane potremo arrivare a un bel numero insomma di personale scolastico diciamo vaccinato quindi pronto in ipotesi di repertura delle scuole a affrontare diversamente con approccio diverso naturalmente rientra a scuola penso che abbiamo risposto un po' a tutte le domande che sono arrivate vi ringrazio per la disponibilità mi dispiace per quella problema che avevo dall'inizio per quel che riguarda il collegamento abbiamo trovato però come risolvere il problema quindi non accadrà più e detto questo voglio lasciarvi insomma ricordando il fatto che per quel che la delle vaccinazioni vi aggiungeremo costantemente sulla nostra pagina facebook avete un numero di telefono dedicato per poter chiedere le richieste che vi verranno eventualmente richieste a voi o che sarà necessario chiarire e ci lasciamo con la buona notizia insomma che l'ospedale di agropoli ha avuto un incremento dei vostri letto con programmazione di interventi importanti che sicuramente anche se non si discute oggi della programmazione perché si è concentrata sulla pandemia però certamente nonostante questo già si pensa a una crescita l'esempio della camere per barica lo è della nostra struttura e quindi questo che sia un bel messaggio per la nostra città vi saluto e vi ringrazio